300 tonnellate di rifiuti tossici riversati nel tempo in una cava di 8.000 metri quadrati. Siamo a Vittoria, in località Piano Guastella. Qui sono giunti gli uomini del NOE, il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, a sequestrare il sito in esecuzione di un decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania. L'area era utilizzata come discarica abusiva di rifiuti tossici pulverulenti. Secondo gli investigatori, vi sono elementi per ipotizzare che si tratti di rifiuti che, oltre ad avere un elevato grado di pericolosità, possono essere anche nocivi e tossici per la salute. Bloccato anche un autoarticolato intento a sversare un ingente quantitativo di rifiuti, i carabinieri hanno richiesto l'intervento di personale dell'ARPA di Ragusa, Agenzia regionale protezione ambiente, che ha eseguito campionamenti dei materiali rinvenuti e che è stata incaricata di compiere le successive analisi per stabilire origini e caratteristiche dei rifiuti riversati illegalmente nella fossa dell'ex cava. Le indagini hanno evidenziato che, per l'area della cava in questione, i titolari, nell'anno 2016, avevano ottenuto dall'assessorato territorio ed ambiente della regione l'autorizzazione ad effettuare un cosiddetto piano di recupero morfologico ambientale con il quale, a seguito della presentazione di uno specifico progetto, si è autorizzati a riempire una cava di materiali, in genere terre e rocce provenienti da altri scavi, non pericolosi e compatibili con le caratteristiche del terreno, al fine di riportare l'area al piano originario, senza conseguenze per l'ambiente e per le falde idriche sottostanti. Nel caso di specie, invece, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, i titolari, una volta ottenuta l'autorizzazione, avrebbero consentito il conferimento, protratto per almeno due anni, di un enorme quantitativo di rifiuti provenienti da un'altra attività di recupero e trattamento rifiuti presente in provincia di Ragusa, materiali aventi caratteristiche fisico-chimiche tali da essere ritenuti rifiuti speciali e pericolosi ed assolutamente non autorizzati né compatibili con le attività di recupero morfologico-ambientale autorizzate. Ai titolari e responsabili legali delle società coinvolte è stato notificato un avviso di garanzia emesso dalla Procura distrettuale di Catania, con il quale sono state loro contestate le ipotesi di reato di associazione per delinquere e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il valore del bene sequestrato supera il milione di euro.